CGL e Cisle Will esprimono preoccupazione per la sorte dei dipendenti della Sabino Esplodenti di Casalbordino, all'interno della quale il 21 dicembre scorso un grave incidente costato la vita a tre operai rimasti uccisi da un'esplosione mentre movimentavano materiale esplosivo a bassa potenza. Mentre sull'episodio indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Vasto e mentre esposti delle associazioni ambientalisti ed in particolare del Forum dell'Acquabruzzo gettano ombre sulla corretta applicazione delle disposizioni della direttiva Seveso, la produzione è ferma proprio per il sequestro dettato dalle esigenze degli inquirenti. L'azienda, scrivono i sindacati al termine di un incontro con la proprietà avvenuto nella sede di Confindustria, ha confermato di essersi messa a totale disposizione degli inquirenti affinché nel più breve tempo possibile si giunga la chiusura delle indagini. I rappresentanti dei lavoratori hanno sollecitato la Sabino Esplodenti a farsi carico delle retribuzioni dei dipendenti che sono attualmente in cassa integrazione ma i referenti aziendali, sottolineando l'attuale difficoltà finanziaria conseguente al blocco produttivo, hanno garantito il pagamento della sola mensilità di gennaio, paventando anche la possibile chiusura del sito produttivo. Sia i sindacati che le RSU aziendali, si legge in un comunicato unitario, auspicano che la Procura della Repubblica di Vasto faccia tutto il possibile affinché si portino a compimento le indagini in tempi celeri, compatibilmente con le necessità istruttorie e che possano permettere la ripresa anche parziale dell'attività lavorativa, scongiurando così la ventilata chiusura dell'azienda. La Sabino Esplodenti è uno dei 23 siti a rischio di incidente rilevante disseminati in Abruzzo. Per questi, la Giunta regionale, nelle ultime ore, su proposta dell'assessore Campitelli, ha deliberato una nuova pianificazione e programmazione delle attività ispettive ordinarie. La programmazione per il quinquennio 2021-2025 è stata elaborata con il supporto dell'Art Abruzzo, sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con Ispra. La programmazione suddivide gli stabilimenti a rischio in classi differenti di priorità, a ciascuna delle quali è stata associata una frequenza di ispezione minima sulla base degli indici di riferimento previsti dalla legge.